Questo è Topolino Ed è il personaggio più bruttissimo Che possa esistere sulla faccia della terra Che schifo Oggi andremo a giocare A Mikey Mouse Punto exe su Roblox Ovvero Ricky Rat Che praticamente è Topolino Ma bruttissimo Dobbiamo entrare dentro la sua Clubhouse e cercare di scoprire Quello che ha fatto Ragazzi e voi guardavate Topolino Scrivetelo sotto nei commenti Ed iscrivetevi al canale Lasciate un pollicione in su Se l'ho il topo Vi mangerai il formaggio Benvenuti su Ricky Rat Ma perché ho i capelli bianchi Sono gemmecchiato Ma che Ma che musica è Cosa sta succedendo Dove siamo finiti In una scuola Va bene dai Scegliamo un posto Un posto con tanti giocatori Vediamo Qua dentro Ci sono Ciao ragazzi Adesso andremo a giocare Con Topolino Ecco Che cosa sta succedendo Caricamento del divertimento Ciao amici Ok ciao ragazzi Siamo arrivati Andiamo a vedere Mickey Mouse Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che cosa c'era in quel sandwich? Sono sicuro che non c'erano funghi C'erano altri tipi di funghi Che è successo? Qualcuno è stata rapita Aiuto Pingu Dobbiamo farcela Attenti ragazzi C'è pericolo sulla strada No la ragà non di prima E' stata messa sotto Ok è rinato è rinato sbrigati 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 Scusami Pingu Scusami ok ce l'abbiamo fatta Ci siamo da questa parte Guarda cartello fatti gli affari tuoi Grazie siamo qua siamo arrivati Oh mamma mia Signora Addison Visto che ha subito tantissimo Addison Ma che ci facciamo nelle fogne Ok che i topi Stanno nelle fogne ma non pensavo Così tanto nelle fogne Io seguo a voi Voi siete le vittime sacrificali Io invece sono un pinguino indifeso Qualcuna è stata rapita No Addison No Addison sei qua Scusa che schifo è Scusate ma che cos'è sta cosa Allora proseguo io Vado avanti io Ok vado avanti io Non temete Io sono un pinguino coraggioso Ok qua c'è una porta Qua ci sono tante porte Apriamo le porte Obiettivo Trova la chiave per la porta Ok Uh valvola Ok gira la valvola È bisogno Di una chiave inglese Prendi la chiave inglese Non saltate ragazze Mamma mia non sapete fare nulla Ci penso io Ho preso la chiave inglese Ok facciamogli vedere Fingo di cosa siamo capaci Apri qua Perfetto Addison ma Perché non fai un tito horror Già che ci siamo Eh No Un topo Che schifo No Non ci credo È il cugino di topolino Quello Perché io avete fatto del male Ok qua c'è un'altra porta Apriamo Mickey Mouse Mickey topo Topo Gigi o sei tu Ok Perché qua Topo Gigi o se ne sta tranquillo Uh prendiamo la chiave Ho trovato la Oh mannaggia Hello Ah Topo Gigi Aiuto Aiuto No scusa Non ti offenderò più Non ti chiami topo Gigi Lo giuro ragazze Seguitemi Mi salverò la vita Ok forse è meglio di no Che cos'era quel coso Qualcuno sta costruendo una macchina Ok Qualcuno sta costruendo una macchina Ricordatevi perciò che siamo qui Siamo qui per Mickey Eh ma tu non sei Edison E tu è vero Ma che siete voi due Va bene seguitemi lo stesso No Ricky Ratt è stato distrutto Allora non era lui Mickey Ma era solo un prototipo di Mickey Ok ok ciao Mickey Tu sei che cosa sei un prototipo di un robot di Mickey Io sono stato disegnato per uccidere Ma ora io ho una vita pacifica Ma come In che senso corri Ma hai detto di correre ma non è che io devo correre Che forse debbo correre Aiuto perché i topi mi Ma che è Ma che significa bingo Ok 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 Così Ah Sì L'ho colpito Aia Bingo Un po' di mal di testa vero Bravo Sì Grande Aiuto Aiuto Adesso sto viaggiando Troppo potente Aia fuoco Fuoco Altre due lignate Boom Spengate Dopo ti do il colpo di grazia Beccatelo Partito per l'America Ragazzi Lasciatemi qua Non vi preoccupate Sei un grande Ha fatto tutto Non lo so Cosa sono tutti questi topi che ci attaccano E la peste nera La casa di topolino Benvenuti da sto polino Dov'è Pippo Obbettivo Trovare Mickey No Mamma mia Aiuto Ah Mamma mia Oh calma Dovevo trovare Mickey Prendete lo spray a tizzetto Bravi Addiragno Tu sei intrappolato Qui No Come intrappolato Ma non voglio essere intrappolato Sono troppo giovane Ecco Eccolo il passaggio segreto Sembra che questo scappale si possa muovere Ok muovilo Ah da qualcosa Da qualcosa Come devo trovare qualcosa che può muovere Il computer Venite con me Ciorma Non fatevi attaccare Ma che sono spugne Ma è tipo sponge Che c'entro io Oh oh Sei aperta No ragni No ragni Aiuto No Non mangiate Grazie Zinni Grazie Davide Salvami Oh Mamma mia Quanto mi ha tolto però Non fidarti di lui Ma di chi Del topo Oh mamma mia Oh mamma mia Aiuto Scappate Scappate Prendi la padella Aiuto C'è una padella davanti Va bene Mi prendo il coltello Se qualcuno mi può togliere Questa cosa che c'ho davanti Grazie Oh Ecco cosa serve Oh mamma mia Vieni qua tu Ragniuccicante Ma è il tuo ragno Ah ragazzi Ma questo qua Fa le uova Ci siamo E Mikey Ma dove cavolo ti sei cavolato C'è Non lo so Questa è la stanza di Eccolo Prendi il vega martellozzo Yeah Ho solo una vita Rimasta Il computer Quello di prima Buongiorno Ma Che sto giocando Io non lo so L'abbiamo aperta Ce l'abbiamo fatta Speriamo io Con il mio martellozzo enorme Di farcela Martelliamo Il computer Il computer ha detto Che Topolino È qui sotto Così noi ci siamo andati Oh Siamo entrati In qualche strano edificio Spettrale Tipo Luigi's Mansion Perché qua ci sono occhi E vabbè ma qualcuno Si sta facendo un bel pasto Sta prendo tutti i dungeon Non so cosa ci potrebbe essere dentro Ma qua c'è luce Un tizio Ah ciao Salve buon uomo Ehm È questo Lo attiva la testa Io sono un drago No 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 Aiuto Scappa 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 Non so che cosa sia Guardatelo Quanto è bello Che avevo detto Parla al cavaliere del dungeon Prima di procedere Oh Vabbè ma dai Ma questo è Dark Soul Signore Ti devo prendere una cosa Una Golden Cup Una Aspetta ma la Golden Cup Non mi dire che è Ma è il Santo Graal Lascia Il Tedber Quante cose Il Santo Graal Del Cavaliere Oh ma c'è una porta oscura Trova entrambe le teste di Mickey Per cucciare Mamma mia Oh Ok Oh attenti Ok Ok Visto che è bravo Ok ci siamo Tira questa leva Per prendere Questa magica Cup of gold Quello che è Non lo so che cosa sia Porta Da questa parte Si Eccola Questa è la tazza Oh mamma mia Si però Ah ho sbagliato Ah devo decidere Qual è tra queste Ma sarà Non lo so qual è Sto perdendo vita Quale da mannaccia è Questa Si Sì C'è una botta di vita Meno male L'ho presa Buon uomo Ce l'ho Tenga Tenga Grazie grazie Quindi è il pezzo del puzzle Oh E che ci voleva Grazie Ti prego Sbloccati Si Oh L'unico modo Di uscire qua E giù Come giù No ragazzi Qua c'è boss fight Perché Signor topo Mi scusi Oh no E' una lotta Scusate ma Che state evocando Che cos'è Quello schifo Aiuto Colpiscilo Aia ma non gli fa Niente sta cosa Di più Sembra Dark Soul Mamma mia Che potenza Mamma mia Non posso ripararmi Come faccio Devo saltare Vai Devo saltare Vai Devo saltare Vai Aia No ragazzi Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Ok Guarda Adesso rimango Tutta fermo qua Non me ne porta Delle Vincolare Ci ho fatto Un colpo Oh si Distrutto Guarda che continua Eccomi Si Questo è topolino Questo coso è topolino Quello era Mickey Oh mamma mia Ok ragazzi Vi direi che Questo video Su Ricky Rat Non posso anche Terminare qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Che nulla Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto C'è un tocco di pollice In su Qualcuno Siste tutto E noi ci vediamo Un prossimo video E Ciao 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 Ciao